In migliaia di anni di civiltà umana nessun uomo di potere ha mai agito per il bene del popolo. E dove così è sembrato, l'uomo lo ha sempre fatto solo come scamotaggi per ottenere il consenso e soddisfare la propria volontà di potenza. È sempre stato così e sempre così sarà, perché questa è la natura umana. Perché l'essere umano, per sentirsi vivo nelle società molto estese, ha bisogno di sentirsi importante e potente e ciò lo può veramente ottenere soltanto sentendosi superiore agli altri. Un tempo molte persone di tutto ciò erano perfettamente coscienti e di conseguenza davano ad alcuni la possibilità di soddisfare la propria volontà di potenza solo se in cambio questi mettevano in pratica azioni a favore dei più e, in ogni caso, facendogli costantemente capire che il loro potere era sempre in bilico e che gli poteva essere tolto da un momento all'altro. Certo, non tutti erano così svegli, giacché c'erano anche coloro che credevano che il marchese di turno era buono e voleva loro bene e questo solo perché, quando li incrociava, sorrideva e gli rivolgeva qualche dolce parola. Questi ultimi, ovviamente, erano i sudditi perfetti. Oggi, nel ventunesimo secolo, è incredibile osservare come milioni e milioni di persone sono arrivate a convincersi che i potenti ci chiudono in casa togliendoci tutto, lavoro, libertà, vita, per il nostro bene. È scioccante constatare il potere della televisione. È riuscito in un nulla a ridurre la maggior parte delle persone allo stato di sudditi perfetti, proprio come quei contadini pelleossa dell'anziano regime che, tornando nelle proprie baracche, erano felici come non mai perché il marchese, immerso nei suoi sfavillanti vestiti, li aveva accarezzati, non comprendendo che quella era la stessa carezza che il nobile rivolgeva ogni giorno ai propi cani.